Signore e signori buonasera e con grande gioia come sempre che vi do il benvenuto in questo nuovo video su Football Manager 2020 Una stagione che sta procedendo per il meglio, ragazzi non mi fate parlare, non mi fate parlare, vi prego, non mi fate dire nulla Siccome va, va, intanto la classifica dice che il Catania, il Catania, no, linda Juve Il Catania sta al primo posto a 29 punti, a più 2 dal Milan, a più 5 dalla Lazio, a più 6 dal Bologna Il nostro grande bomber Uros Bogicevic, capocannoniere con 8 gol e per adesso sembra tutto alla grande In Europa, perché bocce sta pure l'Europa, la classifica dice che il Catania e Manchester United sono a pari punti, 9 esattamente C'è il Rio Ave, attenzione che si rifà sotto, non abbassiamo la guardia adesso, non è il momento di abbassare la guardia Ovviamente c'è tutto il girone di ritorno ancora da disputare Bene, oggi andremo a sfidare l'Atalanta in Serie A, il Manchester United all'Old Trafford, ragazzi, mamma mia che emozione Empoli e Cagliari, entrambe in casa, quindi dobbiamo approfittare di questo doppio scontro casalingo Sperando che il Milan inizi a rallentare un attimo, quindi andiamo a fare le formazioni e poi ci tuffiamo nell'atmosfera partita Come sempre, la formazione recita che tutte le nostre stelle sono ritornate in campo E a conferma di ciò abbiamo Muric in porta a Japong, Bettella, Bastoni e Delvedi Perché Seovic non è al massimo ancora, 34 solo per cento A Bucciabacca e Ansufati come ali invertite d'attacco Bellingham arriva a centrocampo, esposito a supporto di Bucicic E adesso, signori, ci prepariamo per la partita Atalanta di Tal Benahim scende in campo con un 5-4-1 Quindi bella, belli tosti là dietro Gollini in porta, Zevic, Vicari e Fernandez in difesa Sanchez e Pezzella come terzini fluidificanti E Pessina, Mediano, Murgia e Avila a centrocampo Silvestri a supporto del grande amico Dusan Vlaovic Spoglietoio per la squadra Dunque, 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 aggressivo Voglio la vittoria Bene, bene, tutti motivati Innamo, dai L'Atalanta è al quindicesimo posto Siamo al Joey Stadium di Bergamo Dai ragazzi, forza Subito il primo tiro, secondo tiro Vabbè, anche l'Atalanta si sta a fa sotto A Bucciabacca, pronta a battere questo calcio di punizione C'è però Gollini che esce e fa su il pallone senza problemi Attenzione adesso al contropiede, ma Gollini aspetta un po', meno male Poi il suo rilancio è completamente fuori misura Giappongo adesso può partire tutto solo Si fa tutta la fascia In mezzo centralmente Mamma mia Mamma mia Questo gol mi ha ricordato Juan Manuel Vargas al volo di sinistro Quando tirava le bombe Bellissimo moriva Ammazza, questo è un peccato Ragazzi, mi avete detto in molti Anzi, ve lo faccio vedere se posso E di cercare di prenderlo Ma guardate, vale già 50 milioni Vediamo quant'è la sua clausola recissoria 106 milioni, ragazzi Quindi sarà difficile Sarà molto molto difficile riuscire a trattenere Moriba E purtroppo Finisce intanto il primo tempo È successo solo l'azione che ha portato il Catania in vantaggio Va benissimo così, appassionato So che potete fare anche meglio, signori Va bene, stiamo andando bene Ma so che se vi impegnate possiamo fare meglio Quindi domandiamo di più alla squadra Ovviamente Aia, a bucciabacca infortunato Subito mettiamo Aorta Allora, come niente Mettiamo Aorta Mettiamo Aorta Mi ha detto di cercare di non cambiare i ruoli Quindi lasciamolo sta 68esimo, la partita dalla noia mortale Dove nulla sta accadendo Quindi a noi comunque stiamo a vincere Perciò ci va bene così Mettiamo un baia Certo, un bel 2-0 potrebbe essere buono Ci potrebbe far piacere comunque a prescindere E per il resto, ragazzi Per adesso lasciamo perdere 85esimo, attenzione Muric Mancano 5 minuti L'audio Come se... non lo so come mai Ragazzi, chi lo sa come mai L'audio ultimamente si sta buggando sempre più spesso Prima non succedeva così spesso Ah già, bong Ecco, sono tornati Gli spettatori L'allarga Verso Ansufati Che oggi è stato un po' un fantasma Ma va bene così Mbaie verso Moriba Ancora per Ibrahim Mbaie Sempre saffida Moriba Grandissimi scambi Qua la triangolazione è perfetta Ma non riusciamo a sfondare L'Atalanta con il suo 5-3-2 Ovviamente si va a chiudere molto bene Bellingham la lancia per Ansufati Attenzione ancora Mbaie Sempre per Moriba Non ci muoviamo di un soffio esposito Non deve far altro che appoggiarla Uh, ok, ok 2-0 E va bene Andiamo a chiudere Andiamo a chiudere Andiamo a chiudere Ok Adesso l'Atalanta In zona d'attacco Bellingham la spazza Possiamo portare in contropiede No, perché c'è Fernandzi Che va in anticipo Zeff, Wicke, Burgio, Bastoni Ancora l'Atalanta Che va a recuperare il pallone Mazza, qua proprio Muric stava a piafugli E ha tirato la casa di su nonna Ma porca paletta Muric Vabbè, comunque Grazie al cielo Avevamo fatto il raddoppio Andiamo a subire questo gol A causa di una distrazione di Murici Ma comunque Una gran bella vittoria Ben fatto Cerchiamo di mantenere il morale Sempre a un livello accettabile A bucciabacca Infortunato per tre settimane Questa è male Bettella inganna l'Atalanta E la sua ex squadra Tra l'altro Va bene Lennon è stato visto Perché vuole bastoni Sì, dammi 80 milioni E te lo porto a casa 13 intanto le partite Senza perdere E va benissimo Adesso Anzi, vediamo che fa il Milan Un attimo ragazzi Importantissimo Mazza, oh ma sto cazzarola di Milan Al 95esimo Ma che culo hanno Ma porca miseria E niente ragazzi Il Milan non ci vuole mollare Quindi continuiamo a braccetto Con il Milan che ci insegue A meno due Adesso ci avviamo Verso la partita Emozionante Contro lo United Andremo in uno dei templi Del calcio mondiale Esattamente all'Oltrafford E vediamo che succede Come sempre E allora eccoci ragazzi Non rinunciamo Alle nostre stelle Per questa partita Dove comunque Vogliamo ben figurare Siamo conci del fatto che L'incontro sarà proibitivo Ma cercheremo comunque Di fare una bella figura E quindi in muri ci importa Già poi un bettello Bastoni e Sevic Orta e Ansufati Sulle fasce Bellingham Moriba Esposito e Bogicevic Che ultimamente Il buon Uros Sta faticando A trovare la via del gollo Ma capita Capita A molti attaccanti E ovviamente Qua ce ne vanno sette Giustamente Nella Nell'Europa League Quindi mettiamo Niko e il Vedi Bene Conferma la formazione Andiamo avanti Un sostituto in eccesso Vabbè niente Lascialo perdere Un sostituto in eccesso Andiamo a Lo United di Steve Bruce Si presenta con 5-2-3 larga Positivo The Game porta Ramos Mefame Martinez In difesa Lindelof Chilwell Come terzini Rifletificanti Lo Celso e Lopez Al centrocampo Addirittura Gabi Goll Raffa Sulle fasce Con Greenwood Unica punta Va bene Spogliatoio Parla la squadra Appassionato Non abbiamo nulla da perdere Ragazzi Ma sappiamo quanto valiamo Quindi Dimostriamo tutti chi siamo Signori All'Old Trafford Nel tempio del calcio Dai Attenzione United In possesso ballo Ma parte dalla propria Metà campo Lopez Avanza 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 Sulla fascia Vede Lindelof Tutto solo La dà indietro ancora Lopez Pronto al cross In mezzo La palla Attenzione Arriva ancora Lindelof Che può provarla Cerchiamo di prendergla No Lo Celso Raffa Ancora per Lo Celso Che prova la botta La prova E attenzione Cilwell In mezzo Greenwood Dove cazzo Non si sta a capire Mazza Mamma mia Che è proprio Un'azione concitata Della Non si è capito nulla Comunque Ci riusciamo a salvare Ovviamente Lo United Ragazzi in casa Ha fame di vendetta Per quanto Ha subito Al Cibali Domandiamo di più Intanto Sta per finire il primo tempo Sì Ce l'abbiamo fatta Non abbiamo fatto neanche Un'azione importante Però Non ho visto Non mi soddisfa per niente Quello che ho appena visto Quindi cerchiamo di andare In campo Signori Noi Non cambiamo La nostra mentalità Aia E che temoreva Nero sicuro Qua L'arbitro va Alla capitale del VAR Ma c'è il ricordo Ve lo dico io C'è il ricordo Quindi vai un po' più Veloce Per favore Non me fa Perde tempo Su Arbitro Te pare che qua Sto a pettinare le bambole Ecco Va bene Un ricordo Un ricordo segnato Grazie al VAR Lo United Verso Moriba De Gea È in mezzo Dunque 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 Ducure per Bellingham Che è ammonito Evitiamo di finire in dieci Ansufati Lo lasciamo Riccardo Horta Per Baiea Giappongo Può farlo Preferisco Giappongo Che vada ad attaccare E Antiste Per Esposito Confermiamo Facciamo direttamente I tre cambi Subito Manca un quarto D'ora ci spostiamo Addirittura in offensiva Siamo senza paura All'Old Trafford Ragazzi Non abbiamo paura Di esporci Agli attacchi Dei Red Devils 82 83 Mancano 7 minuti Ne mancano 5 Vediamo se Molto offensivo Riusciamo a fare Almeno l'ultima azione Però guardate che Attenzione No È sempre nostra Moriba Illumina Moriba Guardalo Bravo Seovic Mettile in mezzo Moriba Seovic Moriba In mezzo No Ancora Ci riproviamo C'è tu pure Mancano 2 minuti Crediamoci Bastoni Il lancio Perfetto Per Ansufati Ansufati Verso Seovic Moriba Stiamo cercando Di sfondare Ma lo United Guardate come si difende In linea Moriba La prova Va bene Va bene Va bene Va bene Dai ci abbiamo provato Bravissimi ragazzi A prescindere da tutto Bravi Abbiamo Ce la siamo giocata 61% Il possesso palla Per il Catania Peccato Peccato Ma comunque bravi Nonostante il risultato La prestazione Mi è piaciuta Non è facile per nessuno Andare a giocare All Old Trafford Ovviamente E quindi Vittoria Convincente Il Catania Ha ottenuto Sì Grande Quindi vuol dire Che il Rivave Ha comunque perso È giusto Sì esatto Ha perso contro Lo Slade Fraga Quindi a prescindere da tutto Ragazzi Passeremo Probabilmente Come secondi Che a noi Va benissimo Comunque per essere Una novellina Una principiante Un esordiente Nell'Europa League Andare a Passare il turno Con Con lo United Nel Girone Non era Cosa semplice Quindi va benissimo Intanto Attenzione Il Presidente Davide Franco Ci chiama In riunione Perché vorrebbe Sapere Se ritiene utile Incrementare Il Fondo Trasferimenti No Non la voglio Guarda Teniti È certo Cazzo cazzo Penso che sia una Grande idea Vediamo a quanto Se volete Che ci metteremo Subito all'opera Aumentato i budget Mazza 5 milioni È anche vero Che eravamo A 5 mila euro Quindi Va bene Questi 5 milioni Ragazzi Proprio arrivano A pennello Perché siamo a dicembre E ci serviranno Per andare A prendere Poi i parametri Zero Cioè i giocatori E gli scadenza Quest'anno Quindi qua Possiamo fare Aumentare Incassi sulle vendite Ecco questo anche Potrebbe Richiesta accolta Grazie Dall'80 Passa al 95 Va benissimo Ci piace Richiesta da dirigenza Staff Me lo date È almeno da Un anno Che cerco di farmi dare Almeno un altro Preparatore Niente Niente Non me lo danno ancora Va bene Allora aspettiamo Ma adesso Lasciamo le questioni Economiche Di lato Perché è tempo Di concentrarsi Perché arriva L'Empoli L'Angelo Massimino Cibli Di Catania E noi Lo andremo a sfidare Con attenzione Aspetta fammi cambiare Perché poi mi scorda La mentalità in positiva Ok Murici in porta Gepong Bettella Bastoni Sevic in difesa Iota Moriba Bellingham E Ansufati A centrocampo E Sposito Bocicevic Quindi la formazione È sempre quella classica Quindi adesso Linea alla partita E vediamo cosa succede L'Empoli Di Fernando Morientes Scende in campo Con un 4-1 4-1 Brignoli in porta Pirello Cabasele Maras Semana fa In difesa Zaccagni Mediano Tramoni Mancuso Sulle ali Sturaro Bandinelli Centrocampo E Cannavò L'unica punta isolata Là sotto Povero Cannavò Non vorrei essere Nei sui panni Aggressivo Voglio una vittoria Che allunghi la nostra striscia Positiva Va bene Dai Tutti carichi Tutti entusiasti Forza ragazzi Siamo gli unici a giocare Ma ammazza Giochiamo sempre da soli No c'è anche Cosenza Frosinone Vabbè non c'è il Milan Non ce ne frega una mazza Noi vogliamo solo il Milan Catania subito In possesso palla Sta piovendo In quel di Catania Nonostante come vedete Dalle ombre Ci sia il sole Vabbè ma comunque C'è Bellingham Che adesso avanza Jude Bellingham Verso Japong Vai a Japong Pronto a metterla in mezzo Un cross Che non so cosa fosse Però sbagliano Jude Bellingham Esposito a portavuoto Non può fare altro Che insaccare Sebastiano Esposito Che sta Ehm Uscendo fuori Sta mettendo Un po' in ombra Il buon Uros Bogicevic Ma noi Fino a quando vinciamo Non ci interessa Moriba in mezzo Ancora Bettella Niente fuori Ancora Catania Bellingham Verso Esposito Jude Bellingham Il primo dribbling La mette in mezzo Attenzione Un tiro cross Che poteva essere Molto pericoloso Ma Regnaula Fa su il pallone Pronto che fa Bocicevic Va bene Bignoli Altissimo Nappenander Cannavola Stoppa Benissimo Lo stop Perché mi fai vedere Ste cose Su 41 42 43 Non è successo Praticamente nulla In questo primo tempo Ecco come non detto Attenzione Tramoni Tramoni Avanza Pirello A rimorchio Lo può metterlo in mezzo Siamo smessi malissimo Meno male Che c'è Murice Che la mette In calcio Da angolo Che va a battere Proprio Tramoni Pronto al cross Vabbè Murice Si faccia espellere Mai 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 nella storia Bellingham Bellingham Eccolo No niente Bandinelli Un intervento pulito Può partire La squadra Si sta addormentando Ecco appunto Ma porca Ma porca E meno male Guarda Oh sveglia Andiamo a fare Un paio di cambi E vediamo se cambia Il vento Perché non mi piace Orta Lo mettiamo per Iota Dunque Tomano Lui Niente Antiste Per Non voglio togliere Bocici Ragazzi Lo so Lo so Sta giocando Male Però Può sempre Dare il meglio Mettiamo Munteanu Per Esposito Parla Alla squadra Eh dunque Si parla Entrammi Parla Alla squadra Aggressivo Voglio vedere Una buona prestazione Senza pressione Signori Confermo il discorso Andiamo Bellingham Mancano 10 minuti Bocici Verso Seovic Ansufati No Vabbè Ma che cazzo Non è Spider-Man Il suo portiere Ma che ha parato Ma veramente Ma che ha preso Raga E' vero Che da noi Bocici Ci si è un attimo Inceppato Però pure Sto portiere Mannaggia Bellingham Adesso Vediamo ancora Un'altra azione Riccardo Orta Avanza Riccardo Orta Riccardo Orta Il tiro E ancora Il portiere Che la mette in calcio Da angolo Brignoli Niente Non ci vuole far Segnare Orta Ancora Il corner In mezzo Allontana La difesa Bellingham Va Bravo Molto furbo Bellingham Complimenti Seovic Che prende palla E parte Il filtrante Per Munteanu Oh Mazza Brignoli Le prende Tutte Tutte Che votazione avrà 10 11 Tutte le stappi A Bastoni Ancora Ma che voto ha 6.8 Dove Dove 6.8 Tutte le apparate Novantesimo Ormai Finiamola così Vediamo Moriba Se riesce a raddoppiare Prima L'ultimo Secondo Proprio I likes E lo so Questo è un fenomeno Ragazzi Questo è un Cazzarola di fenomeno 2-0 All'Empoli Soffrendo più del dovuto Secondo la mia opinione Però va bene Lo stesso Ci portiamo a casa il risultato E adesso Incrociamo le dita E speriamo che Il Milan Vada a rallentare Un attimo Energico Non siamo stati Abbastanza bravi E dobbiamo migliorare Per affrontare Le squadre più forti Ragazzi Mi dispiace Diva Mi dispiace Che voi Vi confondete Però Attenzione 14 senza sconfitta Andiamo ad alloggiare Amoriba Non me ne frega Una mazza Del resto Voglio soltanto Vedere E sperare Che il Milan Vada a perdere O almeno A pareggiare Dove Con da Juve Dai Juventus Te prego Juve Capisco che magari Non abbiamo Un grande rapporto Però Il Napoli Va a perdere Mazza Il Napoli Proprio Grande crisi Per i partenopei Juventus 1-1 Va bene Va bene L'1-1 ci piace L'1-1 ci piace Iniziano a perdere terreno Noi proprio Che contro la Juve Ci abbiamo vinto Fuori casa Tra l'altro E adesso Andremo a sfidare Un'altra squadra Che si trova Nei bassi fondi Della classifica Ovvero I sardi Del Cagliari E quindi Vediamo che succede E siamo pronti Ad affrontare L'ultima partita Dell'episodio Signori Contro il Cagliari Che arriva L'Angelo Massimino E noi Ci faremo Trovare pronti Con Murici In porta A Giapponga Sevic Terzini Bettella Bastoni La classica Coppia difensiva Lui Che adesso Prende il posto Lì sulla destra Che ancora Sta cercando Un protagonista Fisso Lì Questa fascia destra Poi Mori Babeling Mai Anzufati E completare Il pacchetto Di centrocampo Esposito E Bogicevic Lì davanti Abbiamo proprio bisogno Dei gol Di Uros Bogicevic E mazza Non se legge Nulla Ovviamente Comunque Cristian Stellini L'allenatore Ferrere In porta 4-1-2-3 Larga Prudente Chi cazzo L'è questo Vabbè raga La formazione È questa qua Boh Non ve le sto a dire Tanto la vedete Adesso qui Un attimo Parla squadra Aggressivo Io vorrei In realtà Non una vittoria Che lunga Non si asserisce Positiva Io voglio una vittoria E voglio vedere Il gioco Che abbiamo Visto Nelle prime giornate Giocate Come sapete Ragazzi Ignorate gli elogi Di tutti Ignorate Le voci scudetto Lasciate verde Ecco qua Qua c'è Aspetta Però c'è So io davanti Ecco mi sposto di qua Così anche voi La potete vedere Ragazzi Siamo al quarantesimo E non è successo Assolutamente Nulla Zero totale Proprio Ma neanche un'azione Per sbaglio E allora Spogliatoio Di nuovo Aggressivo Non mi soddisfa per niente Quello che ho visto E questo inizia a essere Preoccupante Ragazzi Nonostante guardate 15 tiri Di cui si importa Zero tiri Il Cagliari Però ancora nulla Vediamo A Japongo Se riusciamo a segnare adesso Dopo 400 tentativi Muric Si riparte proprio da lui Verso Bellingham Avanza Moriba 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 Ancora verso Bellingham Il lancio per Ansufati Niente da fare Mamma santo Benedetta Viene sporcato Il tiro in calcio Tango Lui Verso Esposio Il colpo di testa Che ovviamente Non c'entra la porta Ansufati In mezzo Bettella Lavarra Accogliere Attenzione Dalla punizione Bettella Ancora verso Ansufati Stavolta Dall'altro lato E sfonda la rete Ansufati E dai Rimentiamoci su positiva L'avevo spostata Su offensiva Per cercare Di sfondare Il La difesa Rosso blu Del Cagliari E ce l'abbiamo fatta Forse Vediamo Ferrera Adesso Il rilancio È profondissimo Ma è preda di bastoni Che la dà Bettella Possiamo ripartire L'azione adesso Con i nostri centrocampisti Dai piedi buoni Ansufati Proprio lui Avanza Dov'è Bocicevic Voglio tornare a urlare Uros Bocicevic Ma intanto Ansufati Così Per non salare Nel leggere Nel scrivere Si va a piastro Rigore Che va a battere Proprio lui Fatuccio Te prego Va bene 2-0 Ok Ragazzi Capisco che La situazione Attaccanti Nello specifico Bocicevic Esposito Possa iniziare Testare qualche preoccupazione Però fino a quando Vinciamo Fino a quando Portiamo i risultati a casa Signori Io non toccherei nulla Prima o poi Se sbloccheranno Vediamo Potrebbe essere Proprio l'azione giusta Bastoni Seovic Il lancio Per Ansufati Che ha spazio adesso Per avanzare Dai E Bocicevic Eccolo qua Uros Bocice Eh Niente Una mozzarella Gli va a tirare Vabbè Bocice Non è in forma Per il momento Va bene Può capitare Eh scusai Mi sono messo a parlare Ottantesimo Non abbiamo fatto neanche un cambio Eh Togliamo A Gia Pong Che è ammonito Mettiamo a Pedro Porro Va bene E poi Togliamo Ad Ansufati Mettiamo a Iota Diamo un po' di respiro Facciamo riposare un po' E gli Ui Mettiamo a Riccardo Aorta Va bene Andiamo Novantesimo Mancano quattro minuti Di recupero E anche questa Ragazzi Ce la portiamo a casa E purtroppo Speravo Nel gol di Ansufati Ma guardate qua Ragazzi Guardate la difesa 36 tiri Del Catania 16 in porta Un tiro solo del Cagliari Nessuno importa Un po' stesso palla Stratosferico Peccato Che poi non Tutto questo possesso Tutte queste azioni offensive Non si vadano a tradurre In effettivi gol Ma va bene Lo stesso Comunque i tre punti Ce li portiamo Una gran bella vittoria Ben fatta Continuiamo Andiamo a vedere Direttamente La classifica Ragazzi Subito 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 Dunque Prima nella serie A La classifica Recita Con molta emozione Quasi con le lacrime Agli occhi Che ve la leggo Siamo a più 4 Con una partita in meno Rispetto a tutte le altre Quindi potenzialmente E solo potenzialmente Potremmo Addirittura Arrivare a più 7 E probabilmente Laurearci Campioni d'inverno Per Non lo so Non so che dire Io non voglio di niente Non mi sto zitto Già l'ho detto Non dico nulla Il nostro obiettivo È sempre questo quarto posto Al momento occupato Dall'Inter Dove siamo A più 11 Addirittura Potenzialmente A più 11 Va bene così Va benissimo così A livello europeo Invece Abbiamo già fatto Quindi Vabbè Ci siamo qualificati Quindi non ci interessa Una mazza Il prossimo episodio Sperando di vedere Un po' i gol Dei nostri attaccanti Andremo a vedere Lo Slavia Praga In Europa Bologna Sassuolo E Cremonese Quindi Sembra facile Ragazzi Ma Bologna E Sassuolo Sono qua Cremonese Invece E straultimo Va bene La 3 punti Facili Sempre tra mille virgolette La difesa È la migliore del campionato Perché il Sassuolo È adesso A 9 punti A 9 gol subiti Noi siamo 8 Va bene Ragazzi Tutto sembra andare Per il meglio Un piccolo Campanello D'allarme Si Potrebbe accendere Per quanto riguarda Il nostro attacco Che sembra diventato Piuttosto sterile Ma vediamo Vediamo Fino a quando Ripeto Ci portiamo Tra i punti a casa Va benissimo Quindi signori Come sempre Fatemi sapere la vostra Vi ringrazio per aver seguito Questo episodio Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E iscrivetevi al canale Qualora vi piacessero Queste serie Questa stagione Fantastica Che stiamo vivendo E seguitela Tutti quanti Insieme a me Perché Andremo a festeggiare Andremo con la macchinata Ignorante Se il Catania Andrà a vincere Quella cosa lì Che io non nomino neanche Quindi signori Noi ci vediamo Ovviamente domani Con dei nuovi video Ciao